Un racconto emozionante, un'impresa su due ruote per farci vivere da dentro la magia della Race Cross America. Nico Valsesia ci guida lungo i 4.800 km e i 52.000 m di dislivello della corsa più incredibile al mondo. On The Road Again, RAM 2014, le grandi avventure sono solo su Bike Channel.